e abbiamo seminati erano armati dovevano essere sbilli hanno visto soltanto i nostri fanalini di bus sta tranquillo no c'era una vecchietta ha visto Jason in faccia una vecchia barbona che spingeva un carrello che vuoi che ricordi c'è qualche testimone? quella vecchietta ha detto che portavano dei passamontagni saranno stati dei teppisti dei teppisti ricchi senza dubbio come sta? è ridotto piuttosto male che motivo c'era di fare una cosa simile? veramente non è il primo barbone che aggrediscono ma la gente ha paura e non vuol parlare se non vogliono parlare come facciamo a dargli una mano? questa è un'ottima domanda Jimmy qui siamo nei bassi fondi non puoi usare la logica se la gente ha paura diamo un'occhiata al vicolo ehi guardate un po' hanno rotto un fanolino nessun problema l'aggiusto io entriamo eccoci qua ciao 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 tuo padre ha chiamato due volte da Londra? da Roma ma puoi sempre spedirmi una cartolina? sei un schiatto fantastico ragazzi lasciatene un po' il cammino ci siamo anche noi forza ce n'è per tutti sto tornando indietro con il nastro ci siamo dalla me gesù andiamo a goderci lo spettacolo forza dai ti prego ciao 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 buona ne ho viste tante finora ma tutto questo mi fa un certo effetto non ci si abitua mai a certe cose nessuno fa niente per togliere questa gente dalla strada purtroppo è proprio così illumina un po' qui è l'impronta di una scarpa secondo te è da baseball? è una scarpa sportiva con la suola nuova certamente non la userebbe un barbone pensi tu a chiamare la scientifica? si non preoccuparti allora io vado in ospedale voglio vedere come sta quel poveretto muoviti aspetta devo collegare i cavi muoviti ci siamo ragazzi allora cominciamo aiuto lasciatemi non cominciamo ah vai vai forza ancora vai vai ancora si ancora bravo teso bravo oh hai fatto delle riprese eccezionali complimenti non mi posso lamentare guardate non lo sono io sei proprio tu avete visto com'è ridotto? sei certo libero pronto proviamo ancora libero pronto ancora libero pronto no è morto questo registra l'ora del decesso ma è morto no